Ciao, allora io sono Eloisa e sono la titolare di tre centri estetici che si chiamano Sun Beauty e siamo nella zona di Monza e Brianza. Sicuramente lo spunto che mi porta a casa è la motivazione. Siamo qui io e le mie ragazze, alcune ragazze sono con me, siamo tutte molto cariche perché c'è una grande energia che trasmettono comunque sia Postiglione che i suoi collaboratori ed è la stessa che cercheremo di ritrovare anche noi nei giorni successivi e nei mesi a venire proprio perché sappiamo che la passione è quella che muove tutto insomma. Assolutamente poter seguire dal vivo finalmente e sottolineo a dirlo dopo questa pandemia per me è stato molto importante, c'è comunque bisogno di contatto e anche se ormai ci siamo abituati a utilizzare i canali online la partecipazione dal vivo resta sempre comunque un'emozione molto grande perché è sempre giusto comunque indipendentemente da ciò che si pensa cercare di arricchirsi e ogni cosa nuova a mio parere è molto preziosa. Comunque io ritengo che senza i collaboratori non si possa fare nulla io ho bisogno di loro e loro hanno bisogno di me noi siamo una squadra e dobbiamo fare tutto quello che è possibile in unione ed insieme. Io grossi dubbi non ne avevo, non sapevo che cosa aspettarmi sto assaporando giorno per giorno quello che ci propongono e per il momento per me sta andando molto bene perché stiamo comunque imparando delle cose nuove e altre cose invece stiamo cercando di metabolizzarle.